Ciao, siamo Noemi, Chiara, Rosaria, Carolina, Sveda, Andrea. La nostra associazione si chiama Bislac e ci occupiamo di teatro. Il nostro progetto, invece, si chiama Lady Tourette in Tour. Ma partiamo dal principio. La Tourette è un disturbo neurologico che si manifesta attraverso tic sonori o motori, pensieri ossessivi, gesti ritualistici ripetitivi, a cui si aggiunge una spiccata intelligenza dai risvolti geniali. Vogliamo far conoscere la sindrome di Tourette grazie ad uno spettacolo che attraversi la penisola. Questo perché la Tourette non è molto nota, nonostante in Italia colpisca l'1% della popolazione. Spesso i sintomi non sono riconosciuti e una diagnosi errata rischia di portare i pazienti e familiari a terapie inefficaci e strutture quali uffici o scuole sono sprovvisti di un'adeguata preparazione. Insieme all'Associazione Italiana Sindrome di Tourette, abbiamo deciso quindi di creare qualcosa di completamente nuovo. Dopo mesi di interviste a pazienti e specialisti, approfondimento scientifico e confronto con ragazzi e famiglie, abbiamo raccolto il materiale utile per costruire lo spettacolo. La Tourette diventa così un personaggio composto da quattro attrici, con cui il protagonista, Mike, dovrà interfacciarsi. Il risultato è uno spettacolo vivace e fortemente empatico, dove entrano in gioco, oltre alla recitazione, anche la danza e il canto, conditi da una sapiente dose di umorismo sui generis. Abbiamo debuttato a Milano il 18 maggio 2019, ma da settembre Lady Tourette inizierà a viaggiare in Italia approdando nei teatri delle principali città italiane. Ma per trasferire la compagnia lungo lo stivale c'è bisogno del supporto di ognuno di voi. Entra a far parte della nostra community. Abbiamo immaginato delle ricompense strabilianti che ti invitiamo a scoprire. Potrai addirittura andare in scena con Lady Tourette. I fondi raccolti saranno destinati alla copertura di spese di viaggio, vitto, alloggio e noleggio di location ed equipaggiamento tecnico. In questo modo il ricavato di ogni replica sarà devoluto in beneficenza all'Aist. Aiutaci anche tu a portare Lady Tourette in tour! Grazie a tutti!